Siamo all'interno della clinica mobile per farvi conoscere ancora meglio che cosa succede in questa realtà. Dottor Zas. Sì, oggi vediamo la protezione alle mani, è una tecnica, è una prestazione che svolgiamo piuttosto spesso. Molti piloti hanno bisogno delle protezioni per proteggersi soprattutto dalle vesciche. È una tecnica che abbiamo imparato nel corso degli anni e che comunque poi la personalizziamo a seconda delle preferenze del pilota e delle singole necessità. Alessandro, qual è l'accorgimento più importante? Diciamo che ogni pilota ha un po' il suo vendaggio, viene molto personalizzato in base appunto alle esigenze, però la base è che comunque il vendaggio tende a proteggere la mano da quelle che sono delle formazioni di calli o vesciche e diciamo a migliorare quello che è il grip anche all'interno del guanto. Le protezioni si personalizzano appunto perché a volte trovano già delle abrasioni all'interno proprio per le forti sollecitazioni che il pilota subisce e si utilizzano vari tipi di vendaggio, in questo caso appunto è sostanzialmente un vendaggio di protezione insomma. I piloti sono anche un po' scaramantici sul colore del taping? I piloti sono molto scaramantici, spesso e volentieri, oppure magari hanno delle richieste particolari come ad esempio il colore che magari può essere inerente al colore del team, della tutta o altre cose del genere. Ecco, sì sì, se è possibile ce lo facciamo brandizzare nei diversi modi ed è molto scaramantica questa cosa qua. Aiuta ad andare veloce? Aiuta a togliere quel mezzo secondo che manca ogni volta. Grazie. Grazie.